Penso che la partita, se non siamo partiti benissimo, c'è stata una nostra distrazione dove loro sono passati in vantaggio Dopodiché abbiamo preso in mano il pallino del gioco, abbiamo pareggiato e abbiamo secondato in vantaggio Penso una vittoria ben data Buona partita a parte di tutti, tu sei stato il man of the match, che cosa puoi dire a proposito? Come ho già detto prima, oggi magari è caduta da me, altri giorni ci sono, ci sono altri importanti che tutti fanno il proprio dovere Si lavora per squadra e non in maniera singola Prossima partita ad Ischia, quanto è importante avere accanto un uomo d'esperienza come campo? Giovanni è un giocatore esperto, che a noi ci fa piacere riacquistare E' importante, quindi speriamo di non perderlo più e di cercare di andare a Ischia a fare il nostro gioco, la nostra partita Cosa tenere più dell'Ischia? Penso che se una squadra è costruita per vincere abbia pochi punti deboli, quindi sarà forte in ogni reparto Noi dobbiamo cercare di sfruttare le nostre caratteristiche e di cercare di mettere in difficoltà loro Grazie Grazie Grazie